Da giornalista, la prima cosa da fare a Roma quale sarebbe? Tu la conosci bene a Roma come me, ci vivi da tanto tempo. No, ma anche se io dicessi cosa vorrei fare per una città come questa, sarebbe subito... No, come ho detto, non smentisco, si è aperto su tonfacce. Ma no, ma è certo, ho capito, ma io sono venuto qui per parlare non di me, ma di altro. Credo che la cosa che dovrebbe fare questo paese per Roma sarebbe una sola, quella che fanno tutti i paesi seri per le grandi metropolitane, città metropolitane come Roma, capitali. Roma non è solo l'Italia, Roma è mondo. Allora esiste una legge speciale per Parigi, esiste una legge speciale per Londra. Poi non possiamo attaccare un sindaco se non ha la disponibilità di... Città mondo. Certo, ma bisogna capirla che Roma non rappresenta solo il nostro paese, è l'immagine del nostro paese nel mondo. Quindi deve essere sostenuta, al di là di chi va da uno di destra o di sinistra. Bisognerebbe uscire da questa roba, una logica. È la capitale del mondo? Ha una metropolitana che va a pezzi? Sono anni che non si fanno le manutenzioni? I soldi dove si prendono? Dove si buttano? Questa è l'analisi, ma devi averli. Quindi ci va una legge che dia un finanziamento serio, poi bisogna vedere dove li mandano i soldi, perché questo è l'altro problema. Insomma, se li fate una legge speciale, forse Giretti accetta.